All'Odimo, ti ci ficchiamo pure il trauma. René, un trauma grosso come una casa. Ce l'ha suggerito il tuo biblista, che peraltro è una persona veramente simpatica. Biblista simpatico, un po' uno simolo a modo suo. Non mi fido, lo chiamo. Chiama, chiama, anzi, mettilo in viva voce. Pronto? Vincenzo? Ciao, Vincenzone! Ciao, sono qui con gli sceneggiatori. Dice che hanno parlato con te. Sì, abbiamo partorito una bella idea. René, funziona quello che mi hanno mandato. Se ci pensi, è anche la tesi di Saramago, i sensi di colpa di Giuseppe, che poi diventeranno i sensi di colpa di Gesù. Ora devo andare, ciao! No, eh... La tesi di Saramago. Oh, se Saramago ci sarà un motivo... Oh, chiama, chiama, chiama... Ok 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 Ok